ciao a tutti ragazzi sono crea e oggi con l'avvento del nuovo dlc la nuova espansione marching fire avete visto che è cambiato completamente tutto in for honor dalla schermata della selezione del personaggio le varie meccaniche di gioco come statistiche sono state sostituite da perk adesso faccio un video dove vi spiego bene o male a grosse somme il funzionamento dei perk cosa è successo in for honor in for honor sono state sostituite le statistiche che ogni pezzo di armatura e di arma forniva al giocatore sono state sostituite con dei perk cosa significa andiamo a vedere nella nello specifico prendiamo il mio conquistatore come vedete vicino ad ogni pezzo di armatura adesso c'è ci sono due simboli con con dei pallini i simboli ogni simbolo vicino a vicino al pezzo di armatura equivale al simbolo di un perk per visualizzare la leggenda dei perk schiacciate l3 questo ci arriviamo dopo ogni pezzo di armatura vi dà dei punti per il perk su cui è impostato per esempio l'elmo domaric ha come perk come leggete in bassa a destra rinforzo e alba nascente e fornisce al rinforzo 130 punti su 140 e fornisce al perk alba nascente 130 punti su 140 che significa a fianco agli elmi troverete i perk che il conquistatore può attivare i perk si attivano quando questi raggiungono i 600 punti come vedete per esempio al mio conquistatore il primo perk è attivo è attivo perché supera i 600 punti ed è luminoso questo che significa che se io vorrei attivare per esempio l'ultimo perk in basso quello che è 540 punti mi basta trovare un pezzo di armatura che è esatto come questo come la corazza regulus che mi dia dei punti da investire su alba nascente e far riattivare il perk questi perk sono sempre attivi in gioco non c'è bisogno di sbloccarli in gioco restano ovviamente le abilità del personaggio cioè parliamo di cataculta armi da lancio e altre abilità passive quelle si sbloccano con i punti che farete durante il match mentre queste i perk li avrete attivi già dall'inizio l'importante è che li avete sbloccati che avete raggiunto superato i 600 punti come vedete sono state aggiunti anche altri prestigi ogni perk può essere raffinato almeno due volte questo è il massimo che si può raggiungere e vi viene fuori una corazza con raffinata con quattro pallini se schiacciate le tre vi uscirà fuori la leggenda dei perk ogni perk come vedete c'è scritto conquistatore privilegi cosa significa significa che in questa schermata voi vedete tutti i perk che che il conquistatore può attivare se andate giù vedete tutti i privilegi offensivi cosa significa questa schermata invece vi mostra tutti i privilegi tutti i perk offensivi che ci sono nel gioco non per il conquistatore questi sono tutti i privilegi offensivi che troverete nel gioco su altri personaggi stessa cosa per tutti i privilegi difensivi come vedete tutti i privilegi difensivi vi mostra tutti i privilegi difensivi del gioco però vi illumina quelli che ha il conquistatore stessa cosa come tutti i privilegi di assistenza vi illumina i primi tre che sono quelli che il conquistatore può attivare e gli altri quattro invece sono o perk che magari ha un altro personaggio come vedete vi spiega bene qui i privilegi voi ne potete attivare due massimo se riuscite a trovare tutti diciamo pezzi raffinati riuscite da attivarne tre non di più e inoltre vi faccio notare che questi perk non fanno altro che assegnare un ruolo al personaggio che voi scegliete nel caso del conquistatore come avete visto lui ha solo privilegi difensivi di assistenza quindi un personaggio che come classe pesante non deve fare altro che fare supporto perché lui già essendo classe pesante ha degli attacchi molto molto potenti quindi gli hanno dato dei privilegi difensivi e privilegi di assistenza vi spiego anche perché alcuni i perk nella lista alcuni sono colorati altri no è in base alla rarità si vede che i primi tre sono i perk più facili da trovare su un pezzo d'arma su un pezzo di armatura mentre gli altri vanno a scalare in base alla rarità comune raro estremamente raro eccetera come vedete sono gli stessi colori delle armature quando salite di livello identici e il funzionamento è lo stesso spero che questa piccola guida vi sia di aiuto nel riuscire a bilanciare bene il vostro personaggio io sto trovando un pochino di difficoltà perché adesso devo rimpostare tutti i personaggi e questo mi fa perdere un sacco di tempo però mi piace l'impostazione che la ubisoft sta dando a for honor la nuova modalità è spettacolare ancora devo provare la modalità arcade però immagino che sia carina anche quella è questo sistema di perk non far altro che far cercare di bilanciare il gioco piano piano se fate caso sto cominciando a assomigliare bene ma la ribon six con operatori specifici per alcuni ruoli e altri specifici per altri ruoli prima un assassino vi poteva vi poteva fare diciamo un ruolo a 360 gradi in for honor adesso con l'obbligo di uso dei perk non può più fare determinati ruoli rispetto ad altri personaggi bene spero che la guida vi sia stata utile se volete iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video lasciate un like ci vediamo probabilmente ai prossimi tutorial della nuova fazione cinese ciao ragazzi alla prossima